Stefano Pompei, attuale sindaco di Tavoleto, ricandidato per il secondo mandato, domenica 12 si aprono le urne, quali sono i capisaldi della vostra lista? Io farei una premessa, perché nel senso della continuità con l'amministrazione uscente, di cui è mio onore di essere sindaco, questa lista si candida a proseguire il lavoro fin qui svolto, che è basato sulla corretta gestione finanziaria, garantendo un equilibrio che gli stancambi ricercano di attrarre quanto più risorse possibile per i trasferimenti da parte degli enti sovracomunali, pubblici e privati, in modo di avere e di garantire a Tavoleto la possibilità di investimenti da destinare alle opere strategiche del nostro territorio. Come abbiamo lavorato in questi anni, noi vorremmo continuare a lavorare in modo di lasciare ai prossimi che verranno qui ad amministrare il nostro comune, quando magari non ci saremo più, già predisposta ad avere tutti gli investimenti e soprattutto non avere grossi debiti negli anni futuri, facendo una previsione anche fino al 2040-2050. A livello di infrastrutture e di opere avete in mente già qualche progetto? Ok, in mente di opere abbiamo già progetti, perché sono progetti che sono iniziati in questa amministrazione che dovremmo portare a complimento. Stiamo facendo, rinnovando e aggiornando il campo sportivo, con un investimento di decine, di centinaia di migliaia di euro, con il rifacimento di una tribuna, con un muro di sostegno per una frana. Abbiamo in mente di valorizzare quello che oggi noi chiamiamo il campetto che usano i bambini, i ragazzi, per la pallacanestro. Un progetto di circa 600 mila euro, di cui 100 mila già abbiamo previsto delle risorse per iniziare i lavori. Abbiamo poi la messa in sicurezza, soprattutto, delle zone ad alto rischio idrogeologico. Soprattutto però vorremmo anche favorire la cosa principale che noi abbiamo, quindi vorremmo valorizzare i nostri territori dal punto di vista turistico, sia in trekking, sia in bike. Oltretutto noi abbiamo già una piccola parte di programma che abbiamo già realizzato per i biker che possono venire nel nostro territorio. Abbiamo anche in progetto un ampliamento di questa ricezione per coloro che con le biciclette girano un po' tutto il mondo, anche tutta Italia. Una politica la vostra, soprattutto, rivolta verso i giovani. Sì, rivolta verso i giovani, ma soprattutto anche verso gli anziani, perché come ormai è noto a tutti, purtroppo gli anziani sono molto di più di giovani, quindi il tavoletto non fa eccezione. I nostri anziani dobbiamo cercare di dargli un supporto per la loro vita quotidiana, per non lasciarli soli, per dare in modo di farli sentire vicino anche all'amministrazione. Per i ragazzi, anche qui abbiamo bisogno di un centro di aggregazione che non disperda queste energie in giro per il paese o nel giro per i vicoli. Vorremmo aggregarli e cercare anche in sinergia con la Proloco, abbiamo un centro culturale, abbiamo alcune attività, magari di cercare di coinvolgerli.